Siamo alla Villa Reale di Castello, è spettacolare. Qui c'è un giardino bellissimo, peccato che è tutto secco per via della siccità, cioè guardate cosa non è. Questo posto è spettacolare. C'è un sacco di piante di limone. Questa è una pianta di limone enorme e qui c'è anche una grotta che è in fase di restauro che deve essere una meraviglia. Cioè, guardate le cose che c'è da vedere qui a Firenze, però ora che non siete nulla, ma adesso è una cosa... Cioè, la gente va ai centri commerciali e ci sono dei posti come questo. Cioè, fate voi... O che posto c'è questo? Cioè, qui veramente si domina Firenze... Questo è il Bosco delle Meraviglie. Ecco... Una figura mitologica in mezzo della Pasqua... Ecco la mia mamma... Una veduta aerea panoramica della Villa Reale di Castello... Ecco la mia mamma... E questa è la facciata di Villa Reale... Dove c'è la sede dell'Accademia della Crusca... E lì c'ho la macchina... E questo è il viale intitolato al poeta Mario Lutti... E qui c'è un sentiero nascosto che mi piace tantissimo... E' antistante la Villa Reale... E qui c'è un sentiero... E qui c'è un sentiero... E qui c'è un sentiero...